Questa sera siete in due per il discorso dell'agenzia, mi accennava qualcosina Ivan, se vuoi spiegare Elena, visto che so che è una cosa che deriva da te, di che agenzia stiamo parlando, di cosa si tratta, insomma. Allora, la mia agenzia lavora a 360 gradi su tutto, quindi non è solo OnlyFans, ma è anche Instagram. Io ho sfrutto praticamente il mio milione e 70 mila di follower per portare follower a ragazze che non sono riuscite in questi anni a vendersi, quindi condividendole, pubblicizzandole e ovviamente tutto viene monetizzato. Su OnlyFans. È una cosa molto semplice. Tu ti prendi la percentuale, giustamente. Certo, ovviamente. È chiaramente imprenditoriale questa. No, non è che prendo la percentuale su tutto, ma su ciò che io porto la ragazza in più, quindi è una cosa che comunque è in più, oltre a quello che avrebbe normalmente, insomma, diciamo, ecco. Ci sto. Siamo un'agenzia che lavora soprattutto con gli scambi, quindi pubblicizziamo tutti a partire dai fotografi, a partire dai parrucchieri, estetisti, location, tutti, tutti quanti. Io invece pensavo fosse solo gente di OnlyFans. No, no, no. Infatti è un bel mondo perché tra l'altro quando andrà avanti questa cosa vorremmo prendere anche artisti, ma piano piano, una cosa alla volta. È nata da un mese, infatti. In un mese abbiamo già cinque ragazze che hanno risultati pazzeschi. Ma hanno firmato subito? Allora, subitissimo no, perché comunque uno dice, beh, c'è la percentuale, vorrei vedere, certi hanno chiesto il mese di prova, eccetera, ma poi appena siamo partiti con le prime, abbiamo visto i risultati e abbiamo detto, senti bella, questi sono i risultati, se ti fidi bene. Ma chi è che è stata la prima a entrare? Eh, Claudia. La prima la Claudia, sì, praticamente io e lei una dopo l'altra. Lei la seconda, poi abbiamo già sentito un'altra ragazza che è da Ibiza, quindi noi non lavoriamo solo con ragazze in Italia, è che al momento ho chiuso le iscrizioni perché ho bisogno di personale, quindi... In quanti siete dentro, se l'hai già detto come ragazze? Cinque ragazze hanno firmato. Sì, più tre avvocati, perché... Ce ne vogliono. Potrebbero esserci problemi in generale, non si sa mai, è un mondo un po' particolare. E cinque ragazze, vabbè, poi sono io il mio socio, che è anche il mio ragazzo, tra l'altro, e sta andando veramente meglio di quello che mi aspettavo. Davvero? Eh, ovvero. Però c'è nel senso, sei stata sgamata, cioè è una roba che cazzo per forza deve funzionare. Eh sì. Cioè se poi tu usi il tuo pubblico, figa, grazie al cazzo per forza. Eh sì, lo spesso. Però non ci aveva ancora pensato nessuno. Ci avevano già pensato anche altre agenzie, solo che noi lo facciamo un po' in modo diverso, ripeto, a 360 gradi. Cioè io, tante ragazze soprattutto, sono un po' gelose dei propri follower, fanno fatica a pubblicizzare le altre. Io invece sto mettendo la mia immagine dopo di loro. Cioè io sto investendo subito, certo. Beh, anche perché tu guadagni comunque. Certo, ma è questo che, soprattutto in questo mondo di donne, se non c'è collaborazione, vai giù e basta. Sì, anche perché vorrei specificare, allora io e Elena ci siamo conosciuti che avevi 60.000 follower, 30.000, non mi ricordo. Sì, sì, all'inizio sì. Eh, proprio. Beh, comunque le hai fatti 200, 250.000 e poi tipo in pochissimo, bam, un milione, così. Eh, sì, ma è perché ho iniziato a fare gli scambi, gli scambi che funzionano. Sì, vedo che fai le storie con altri tipi. Più si aiuta, più si cresce. Adesso il social è social, finalmente. Cioè, sotto questo punto di vista è migliorato molto. Poi chi non si dà, non avrà. 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 Poi chi non si dà, non avrà.